Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video spesa, non tanto previsto perché non dovevo praticamente comprare niente se non giusto un paio di cosine, ma alla fine poi compriamo questo e compriamo quest'altro e sono finita per fare invece una bella spesina. Allora spesa che all'Eurospin conta uno scontrino di 76,40€ mentre all'MD perché sono dovuta andare anche all'MD ho speso 5€, allora dell'Eurospin però 76,44€ ma manca una cosa ossia i pantaloni perché questa settimana abbiamo visto che c'erano dei pantaloni da lavoro con i tasconi laterali e quindi solo questi sono costati 20€. Quindi alla fine se mi ero preventivata una spesa sulle 50€ all'Eurospin ci sono praticamente entrata alla grande. Ma andiamo subito al vivo del video di questo video, ho comprato la provola piccante, ne abbiamo preso due, poi ho preso a questo dall'MD un pacco di patatine, di queste qua da friggere o da fare al forno ormai da tempo di faccia al forno e mi trovo anche molto bene. E poi ho preso, torniamo all'Eurospin, questa lonza di suino di maiale perché voglio fare questo arrosto con ricetta presa dal libro di Bressanini, il piacere della carne mi sembra. Comunque lui ha studiato in maniera scientifica, essendo uno scienziato, cosa avviene durante la cottura della carne, quindi spiega benissimo tutte le fasi e anche il condimento da fare per rendere succulente e gustosa questa carne. Ecco perché l'altra settimana ho comprato tutte quelle spezie e a prescindere dalla ricetta in sé voglio comunque condividere con voi questa miscela di spezie che lui suggerisce di usare anche per tutte le preparazioni di carne come insaporitori insomma. Poi ho preso due scatolette di funghi champignon, questi qua cotti al naturale, un metodo veloce quando non si è avuto tempo, si si è dimenticato di fare le verdure così per avere un contorno subito pronto all'uso. Un panetto di burro, onestamente non ricordo se ce l'ho in frigo, quindi adesso andrò a controllare, però adesso che fa più freddo viene più facile fare qualche preparazione in più dove c'è l'uso del burro. E poi per il discorso di prima degli aromi, di questa miscela di aromi da fare per la carne, è previsto anche lo zucchero di canna, io ne ho a casa, però è poco, siccome appunto voglio farne anche una discreta quantità non limitata e quindi ne ho voluto prendere un altro pacchetto. Come detto prima, anche questo, si ricomincia con qualche preparazione dolce, quindi ho preso la confettura per ricominciare a fare la crostata, così i ragazzi hanno un modo più sano di fare colazione. Nell'attesa ho ricomprato le ciambelline che stavolta ho trovato all'Eurospin, ne ho trovato giusto quattro e le ho prese tutte. Costano anche pochino, 59 centesimi, a differenza invece di un rigozzetto di suggelati, che per essere suggelati, e quindi il lavoro poi di scongelamento e tutto lo devo fare io, costano un euro al pezzo. Strana cosa, ma è così. Poi ho preso queste olive verde già affettate, di due colori, sia bianche che nere. Voi direte, perché l'ho preso? Non per un aperitivo, bensì per fare una ricettina di Halloween, sperando che oggi, visto che è domenica, prevedo di farla oggi, che vada tutto, che non ci sia niente in contrario, che mi impedisca di farlo, altrimenti slitterà di una settimana almeno. E quindi ho comprato queste olive. Poi ho preso questa ricotta salata siciliana già grattugiata rispetto al trancio, perché non consumandone tantissime, solo quando faccio la pasta corta al sugo, credo che sia molto per me più conveniente e antispreco utilizzare questa vaschetta, che posso mettere direttamente in congelatore e poi utilizzarla all'occasione. olive che non ho comprato, queste vengono dalla campagna, dalla nostra campagna di famiglia. Mio padre sta raccogliendo le olive e gli ho detto, gli ho chiesto di portarmi una busta di olive per fare le olive scacciate, che si fanno proprio in questo periodo durante la raccolta. Quindi anche più di quanto gliene avessi chiesto, però poi ce la divideremo e quindi in questi giorni rifaccio le olive schiacciate, condite con giardiniera, menta, io la preferisco veramente più al naturale, con tanta menta e aglio fresco. Però, come c'è nel canale, il video che sta riscuotendo tantissimo successo è proprio questo della preparazione delle olive schiacciate, grazie a Cookist che condivide le mie ricette, troverete lì tutte le fasi di lavorazione. Quindi se avete la fortuna o la possibilità di avere qualche oliva fresca dell'anno, fatela. Ovviamente il gusto non è paragonabile a quelle olive salamoia, perché comunque anche se c'è una lavorazione per far perdere molto dell'amaro, comunque qualcosina sempre resta ed è questo che comunque è la nota particolare di questo tipo di preparazione. Poi ho preso un pacco di batterie perché si sono scaricate quelle del diffusore di diodorante, e quindi un pacco di batterie e le pile, due di sughi pronti, non avevo intenzione di comprarne più, però si appresta una settimana abbastanza serrata e ho paura che ne dimenticherò a preparare qualcosa, anche se oggi cercherò di fare tutto il possibile per andare avanti, portarmi avanti con qualche preparazione. Comunque sì, lo tengo a casa per ogni evenienza. Poi ho preso un pacco di tortellini, questa è la seconda volta che li compro, e mi sono trovata molto bene i cappelletti, quelli a prosciutto crudo non li stiamo trovando per il momento, e quindi già provati una volta, promossi, e quindi li ho ripresi, questi qua del Tremolini. Scioglimacchia, questo mi trovo molto bene, della Dexal, un pacco di fecola di patate, perché qua, entrando ottobre, come già vi disse in precedente video, si va di dolce e torte praticamente ogni 15 giorni, con tutti i compleanni in famiglia. Poi ho preso uno stick di caramelle, sono due tubetti di caramelle, queste qua alla frutta, che tengo in borsa. Poi due pacchi di mandorle spellate, sia per i miei spuntini, sia anche, vediamo se fare qualche preparazione tipo pollo alle mandorle. Anche questa ricetta la trovate nel canale. Poi bauletto di pane per sandwich, e poi ovviamente patatine, perché i ragazzi chiedono sempre questi tipi di cose. E quindi ne ho prese due, gusto paprika, e poi croccantini, gusto formaggio, ne ho presi invece ben quattro. Poi, all'MD, ecco perché sono dovuta andare anche all'MD, perché all'Eurospin non c'erano, ho preso le zucchine, che ho preso anche abbastanza care, ma per esautire il desiderio dei ragazzi, le sono andate a comprare, perché domani per pranzo vogliono il riso con pollo e verdure a curry. Quindi questa è la preparazione, per esempio, che anticiperò già oggi, e me la troverò avanti per domani. Poi, tornando invece all'Eurospin, ho preso questo cavolo cappuccio, che stuferò e porzionerò, e così me lo troverò avanti per le preparazioni. E poi ho preso giusto due cipolle, perché non siamo tanto consumatori di cipolle in famiglia, e quindi due bastoni avanzano. Poi ho preso il latte scremato, perché lo stavo ormai terminando, ho aperto l'ultima busta, e quindi volevo comprare anche il latte vegetale, perché io nel piano alimentare ho i latti vegetali, però mi sono lasciato un po' titubare dagli ingredienti, e quindi ho lasciato perdere. Poi invece sono andata a vedere, perché mi ha consigliato una marca, la mia nutrizionista, sono andata a vedere che come ingredientistica addirittura la trovo inferiore rispetto a quella che ho letto tipo nei latti vegetali dell'Eurospin, devo guardare meglio, devo fare un paragone migliore. Però voglio dire, quello che me preoccupava come ingrediente invece si trova praticamente in tutti i latti vegetali, parlo dell'olio di girasole credo, se non ricordo male, comunque in tutti i latti vegetali, poi c'è chi lo mette prima, chi lo mette più avanti, dopo altri ingredienti, comunque c'è. E quindi quello che mi preoccupava in realtà non doveva preoccuparmi, e alla fine sicuramente prossimamente vedrete l'integrazione nella spesa di qualche latte vegetale. Per integrarlo, alternarlo, anzi meglio dire, al latte questo qua vaccino, per non dire che forse magari, non so, eliminarlo totalmente, vedremo in avanti. Mi deve piacere comunque, quindi se non mi piace la cosa si finisce lì, sarà tutto un discorso fatto adesso qui al momento. Continuando con la spesa, ho preso questo mango, perché era in offerta a un euro, e quindi ne ho preso uno, è anche abbastanza maturo, e quindi oggi sicuramente ce lo papperemo. Succhi di frutta, questo è i dodici frutti, e questo ace rosso, quindi carota, pompelmo e arancia. Poi ho preso le castagne, oggi domenica, anche stasera griglieremo, e quindi ora oggi pomeriggio metto sotto i ragazzi a fare taglietto alle castagne, quindi stasera castagne arrosto. E poi un pacchetto di brioscine, perché questi ragazzi sono incontentabili, cioè qualunque cosa compri, sembra che non li attiri più di tanto, vogliono sempre cambiare, hanno anche ragione, e quindi oggi ho preso questi rotoli, sono delle brioscine farcite con crema alla nocciola, e poi glassate a cioccolato, un euro anche questi. Poi c'è una cassa d'acqua, è la classica cassa d'acqua che prendo sempre, è inutile farvela vedere, e quindi questa è la spesa non prevista, non nemmeno in questa quantità per queste cose, che alla fine ho fatto. Alla fine ho speso sulle 80 euro, compresi i pantaloni da lavoro. Bene, questa è la fine del video, praticamente il video, la spesa finisce qui. Io vi voglio ringraziare per i numerosi commenti sotto ai video, un caloroso benvenuto a tutti i nuovi iscritti, abbiamo sfondato ormai i 18.000 iscritti e più, sono contentissima, grazie mille di vero cuore, grazie anche a qualche contestatore sotto ai video, sono una persona, un essere umano e quindi fallibile, ci sta che magari sbagli l'inquadratura, sbagli qualche errore nel fare i video, insomma nella preparazione, però sono una persona come voi tutti, a cui piace però condividere ciò che prepara, ciò che è quasi il suo quotidiano con voi, giusto qualche cosa del mio quotidiano con voi. Quindi, un caloroso benvenuto a tutti, un abbraccio invece generale a tutti voi, noi ci vediamo presto con altri video, ciao!